molte persone in italia vengono collegate alle alte tecnologie vengono sottoposte ad esperimenti radiocognitivi attraverso torture fisiche psicologiche devastanti noi del gruppo babilonia o del gruppo dell'associazione centro italiano ricerche insieme al gruppo del blog vittime del controllo neurale satellitare stiamo cercando di dare una mano a queste persone sottoposte come noi a radiazioni continue a lavaggi del cervello interrogatori attraverso tecnologie disumane per creare manciuriani per creare patologie indotte e patologie psicologiche e psicotiche che portano queste vittime molte volte alla deduzione del suicidio perché straziate da una vita sotto attacchi manipolazioni torture senza aver fatto niente senza aver mai detto oppure pensato di fare male a qualcuno unisciti al nostro corpo di emiliano babilonia